Buonasera a tutti, ormai abbiamo già parlato tutti, siamo sempre in questa bellissima giornata organizzata per dare lustro a quello che è tutto il nostro tesoro, che sono questi ragazzi che con grande applicazione cercano di raggiungere un loro sogno e noi siamo quelli che in teoria e poi in pratica dobbiamo riuscire a guidarli verso i loro obiettivi. Si cerca sempre di fare il meglio, d'altronde tutti possono sbagliare, noi per primi, però quando si fa l'importante è farlo in buona fede. Mi aggrego a quello che hanno detto Fioratti e Cabella nel ringraziarvi per poterci dare questa opportunità portando i ragazzi, avendo comunque tantissima pazienza, un complimento loro e naturalmente un grazie a Silvano che ci permette di continuare questa avventura. Grazie mister De Maria, mister Boccardo Io, tanti colleghi, tante persone che conosco hanno fatto calcio, che abbiamo fatto calcio in piccola maniera, creando dei giocatori, creando degli uomini, i giocatori si creano nel tempo, è per quello che mi ritengo fortunato. Mi ritengo fortunato perché vedo delle persone, conosco dei ragazzi, vedo dei genitori che durante gli anni, sono undici anni che sono il toro, poi potranno dire Boccardo è buono, è scarso, non è capace, è roba del genere, però Boccardo cosa gli dice sempre ai ragazzi? Non vende illusioni, io regalo solo sogni. Buona stagione a tutti. Allora, buonasera a tutti, ben trovati, ma mi collego velocemente a tutto quello che hanno detto i mister istruttori prima, è una fortuna per noi essere qui, è un piacere. Io ormai ho la fortuna di essere qui al Torino da dieci anni e sono veramente già tanti, grazie all'opportunità che mi ha dato Silvano Benedetti, il direttore Massimo Bava e Antonio Comi prima. Devo dirvi la soddisfazione più bella di questa giornata è stata quando è stata chiamata la primavera e io in questa squadra che ho visto alle mie spalle ho ritrovato quattro giocatori che erano partiti come loro da Pulcini di primo anno e devo dirvi che è stata un'emozione fortissima. Tutto quello che vi posso dire vi auguro di fare la strada che hanno fatto loro e quindi un grosso invoco al lupo a tutti e ci vediamo sui campi ogni domenica. Grazie. Grazie mister Capriolo. Sarò velocissimo, hanno detto tutti gli altri, io dico solo grazie a Silvano Benedetti che tutti i giorni ci fa lavorare con questi gruppi spettacolari. Buona serata a tutti e grazie di tutto. Quarto anno invece qui con noi Mariano Pugliese, qui lascia il microfono anche lui, un bel gruppo da portare avanti. Io posso dirvi che ce la metteremo tutta per fare un ottimo lavoro per preparare questi ragazzi nel migliore dei modi e poi passare il testimone a chi ci seguirà. Ringrazio tutti i genitori per lo sforzo che stanno facendo e che faranno da qui alla fine dell'anno, della stagione è sempre quello che è il nostro motto e che ce la metteremo sempre tutta. Buonasera a tutti, volevo solo due parole come ha detto Venneri, ringraziare Silvano Benedetti, il Torino FC e dire che abbiamo un unico obiettivo, quello di far divertire i nostri ragazzi e soprattutto farli crescere. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, anche per me la prima cosa è ringraziare Silvano Benedetti che mi ha dato la possibilità di essere qui. Siamo qua per far divertire i ragazzi prima ancora che farli giocare a calcio, questa è la nostra prima e importante idea. Salve a tutti. Buonasera a tutti, ringrazio anche io i miei direttori Benedetti, Bava e Comiprima e io chiedo una cosa ai genitori oltre a ringraziarli per gli sforzi che fanno e la pazienza di non giudicare il lavoro di noi istruttori in base ai risultati ma in base a quello che è la crescita prima del bimbo come uomo e poi del bimbo come giocatore. Per il resto in bocca al lupo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, come tutti ringrazio tutti, staff del Toro, genitori. Vi racconto soltanto un aneddoto per farvi capire chi alleniamo noi. Noi alleniamo dei bambini veramente piccoli anche se sono selezionati però hanno un percorso davanti lunghissimo. Ieri abbiamo fatto un torneo a Lecco e stavamo giocando contro la Sampdoria, ho sostituito un bimbo e dopo due secondi fa mister quanto siamo? Io stavo svenendo perché ero tutto pieno di tensione. Loro invece appunto mi hanno dimostrato che per loro è un gioco, si divertono e speriamo che sia sempre così. Poi le cose si complicano un po' più avanti, comunque da questa piccola cosa ho capito che forse non prendiamoci troppo sul serio anche se siamo nel Toro. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Silvano Benedetti. Queste sono le prime annate di questi bambini al Torino Calcio. Sicuramente io e mister De Letteris la prima cosa che facciamo è insegnare a essere dei bambini educati, rispettosi e sicuramente cercheremo di renderli orgogliosi di questa maglia. Grazie a tutti. Allora buonasera a tutti. Che dire, innanzitutto volevo ringraziare il direttore, il mio direttore Silvano Benedetti che mi ha dato questa possibilità, la fiducia. Me la diede già da giocatore quando ho iniziato a cinque anni come loro nel Toro fino alla primavera e dico che il Torino non è solo una società di calcio, secondo me è anche un insegnamento di vita al Toro, ecco questo premevo per dire queste due parole. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il direttore Benedetti per l'opportunità che mi è stata data, ringrazio i genitori per la fiducia che è stata riposta e come istruttore cercheremo in questa stagione di far crescere i bambini sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista comportamentale soprattutto. Grazie a tutti. Eccoci qua, è bello rivedervi e soprattutto siccome l'anno è sempre lungo, forse è l'unica occasione con qualcuno per rivederci dopo tanti anni, credetemi sono tanti anni che sono al Toro e l'unica cosa che continuo a vedere in tutte le annate in comune è la passione e io spero veramente che questa continui sempre negli anni che siano piccoli o che siano grandi. Un saluto a tutti.